Pronti e attenti Briscola, titoliamo per la serata di Viceversa. Andiamo verso il fine settimana, argomenti un po' più distesi rispetto a quello che trattiamo nel corso degli altri giorni e prendiamo in considerazione un evento molto interessante che già ha avuto la sua prima fase nello scorso mese di maggio e che adesso a novembre, il prossimo fine settimana, proprio raddoppierà. Ne parliamo stasera con l'organizzatore che è Claudio Colella. Buonasera Claudio. Buonasera Nicola. Anche con te non fingiamo formalismi, ci conosciamo da un sacco di anni, forse anche troppi. E quindi questo agevola la tua presenza qua. Senti Claudio, raccontaci di che cosa stiamo parlando. Adesso magari a casa qualcuno avrà intuito, ci sono anche le pubblicità di questo evento anche sul nostro canale, però vediamo un attimo di cosa stiamo parlando, a cosa ci riferiamo. Eccoci, buonasera a tutti. L'11, 12, 13 novembre, come avevi anticipato te, faremo il secondo campionato italiano di briscola, ovvero la seconda edizione di un format che speriamo durerà parecchio nel tempo. Ci troveremo... Interrompo subito e io così cercando sul web ho visto un po' che tanti si appropriano di questo titolo di campionato italiano di briscola, però perché la gara che organizzate voi è più fedele in questo senso? Perché si trattasi di un vero e proprio campionato italiano in quanto già dalla passata edizione abbiamo avuto giocatori da parecchie regioni d'Italia, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, chiamiamolo italiano, ma sono venuti anche dalla Slovenia e dalla Croazia, quindi sta diventando un pochettino un campionato internazionale. Sì, anche perché tu mi insegni e io prima fuori onda parlavo con Claudio e gli ho chiesto ma dovessimo indicare una regione dove si gioca di più a briscola in Italia, c'è una regione tipica della briscola e invece mi ha dato una risposta che mi è un po' sorpreso, io non sapevo che la briscola è un gioco diffuso in tutta Europa. In tutta Europa, sì, la fortuna della trasmissione del gioco è da risalire ai marinai francesi, i graduati si chiamavano briscue e quando arrivavano nei porti della zona mediterranea e non giocavano a carte e questo gioco creava parecchio interesse da parte della popolazione locale, anche perché c'era ben poco da fare. E quindi si è diffuso in maniera molto radicata su tutto il territorio europeo. Le regole sono le stesse e cambiano le carte, anche se comunque i segni sono gli identici, spade, bastoni, coppe, denari. Forse cambiano le arrabbiature, no? Le bestemmie delle latitudini, sì, esatto, le imprecazioni in questo senso. Mi dicevi anche che ci sono tantissime carte, tantissime selezioni di carte. Io pensavo ci fossero napoletane, trevigiane, no? Le triestine, le Modiano, il marchio celebre, insomma, almeno che conosciamo noi da queste parti. Invece ce n'è molto di più, no? Ce n'è molto di più. Ad oggi, ufficiali, carte ufficiali, che tra Modiano e soprattutto dal Negro, sono 16 in Italia, che caratterizzano o regioni o territori, o addirittura città. Dipende, perché ad esempio le trevisane fino ad oggi erano diffuse anche in Friuli. Adesso cercheremo di dar piede alle Friulane, che sono le nuove carte. Ecco, raccontaci un attimo questo progetto delle carte Friulane, no? Perché si parla sempre di orgoglio locale, no? Ci volevano anche le carte da briscola, un po' per legittimare la nostra diversità rispetto alla vicina provincia di Treviso al Veneto, con tutto il rispetto. Ma so che a livello di marketing piace questa cosa, di avere le Friulane proprio. Sì, sì, sì. Siamo partiti con il cambio del retro della carta, quindi abbiamo portato la città di Udine con alcuni luoghi molto importanti e conosciuti. Il prossimo step, con il 2017, sarà quello di fare anche la parte frontale Friulana, quindi cercheremo di mettere... Le idee adesso sono le porte, Porta Manin, Porta Aquileia, personaggi famosi... che ci fa vedere adesso prontamente il retro, no? Con la loggia del Lionello, insomma, è la proiezione di Piazza Libertà, no? Anche con questa immagine di Udine. Adesso Claudio mi ha fornito anche di un pacchetto di queste famose Friulane plastificate che io terrò e giocherò a casa, se potete inquadrarle. Le regole televisive dicono non davanti alla faccia, quindi io le tengo qua, ragazzi. Vediamo se riuscite a inquadrarle. Ecco, benissimo, benissimo. Ok, ci siamo. Eccole qua, così abbiamo questo mazzo originale che io userò per giocare, insomma, in questi giorni a casa mia, no? Sperando che piova, così dopo posso rintanarmi in salotto a giocare. Ti alleni per il campionato. A giocare, a giocare. No, non mi alleno per il campionato, non sono così bravo. Però quelli che ci sono stati al campionato, almeno nell'edizione precedente, come si sono comportati? C'era competenza, adesso tu mi saprai dire, no? C'era competenza, c'era competizione, quello che a noi ha fatto parecchio piacere, perché trovandosi per la prima volta in una situazione di centinaia e centinaia, se non anche migliaia di persone, non sai mai... Ecco, mi dici quanti erano in totale? O ragioniamo a coppie, perché era a coppie? Sì, siamo arrivati quasi vicino al migliaio di coppie, nell'altra edizione. Questa volta cercheremo di superarlo, anche perché penso che abbiamo superato la diffidenza, abbiamo migliorato la qualità del torneo, perché è giusto anche cambiare certe cose, se non funzionano, continuare su quelle che funzionano. Il torneo ha un discorso di prima, ha fatto piacere il fatto che nessun litigio... Peccato, sarebbe stato un bel caso di cronaca, no? Qualche piccola imprecazione friulana e tanto doping, questo sì purtroppo. Ah, ok, ok. Tanto vino, immagino, no? Cabernet, merlotte e friulano, tra virgolette. Non poteva mancare. Adesso, riguardo a imprecazioni e momenti di tensione, vediamo se la regia mi aiuta. Avevo recuperato dal web un paio di articoli simpatici. Uno vero e l'altro un po', diciamo, diverso ma ugualmente simpatico. Qua stiamo parlando della provincia di Brescia, vediamo se me lo mettete in sovraimpressione. Ecco, un articolo preso da Brescia Today e si riferisce al marzo di quest'anno. Pugni e sberle per la briscola sbagliata. Anziane in ospedale. A Marone, che è una località, un paese nella provincia del Bresciano, credo dalle parti del lago di Iseo. Ovviamente 13.000 passa a condivisioni, fa, diciamo, in un certo senso simpatia. Comunque non se l'è vista alla grandissima, questo 79 del posto, che è stato trasportato all'ospedale di Iseo. Per lui niente di grave, solo qualche lieve ferita medicata al pronto soccorso. Per fortuna ci fa un po' sorridere. Invece, una cosa un po' più sul faceto, come si dice, un articolo sulla rivista web satiricalercio.it, vediamo se me lo mettono in sovraimpressione la regia, passa al 3 alla prima mano e strage al terreno di briscola. Questa ovviamente è una battuta, è una stupidaggine, però si conferma, tra l'altro è anche abbastanza stagionato come pezzo, però riemerge sempre nel corso degli anni la tematica della violenza durante le partite di briscola. Claudio, mi hai detto che sono cambiate un po' di cose rispetto all'edizione dello scorso mese di maggio, giusto? Che cosa c'è di diverso? Intanto mi pare di aver capito anche la location, no? Maggio scorso eravate in fiera, e invece adesso dove sarete? Per questa edizione abbiamo, la nostra location sarà al Pala Indoor, che finalmente viene usato, il Pala Indoor, che poi è una struttura veramente bella, cioè secondo me è molto adatta per eventi tipo il nostro, nel senso di creare una ruralità, creare un ambiente molto familiare, in quanto c'è tanto legno, un ambiente luminoso, molto pulito. Saranno a tre giorni di briscola, quindi partiremo il venerdì sera dalle 18, per finire poi la domenica sera, quindi venerdì pomeriggio, sabato tutto il giorno, domenica tutto il giorno. Per questa edizione abbiamo spinto fortemente sui prodotti enogastronomici friulani. Però si potrà fare anche, quindi, non solo arrivare e giocare a briscola, però ci sarà anche un po' di attività, di intrattenimento, diciamo. Quest'anno abbiamo creato una collaborazione, quindi faremo un torneo di calcetto balilla. Bene. L'associazione Buraco Udine... Un'altra cosa per non litigare, no? Beh, sì, sicuro. E non vere. L'associazione Buraco Udine farà un evento in contemporanea con noi, quindi troveremo la briscola e il buraco, che sono tra l'altro due giochi con carte diverse, ma secondo me che si legano molto. Il signor Renzo Catanzaro proporrà invece la dimostrazione del tiro con la fionda, quindi si potrà tirare la fionda come una volta. Addirittura, c'è proprio un recupero un po' delle... Sì, sì, con le fionde fatte in legno, con gli stessi materiali, la stessa tipologia di una volta, quindi con la camera d'aria della bicicletta, piuttosto che i lacci emostatici e quant'altro. Ho capito, insomma, anche questa applicazione, diciamo. A proposito di applicazioni, però vediamo se la regia mi viene in aiuto, cercando oggi su web ho trovato anche un'altra cosa abbastanza interessante. Adesso mi pare di aver capito che Claudio ha visto gli interessi apparecchio tradizionalista, però ho visto che sulle varie piattaforme, qui su Android, che è un po' l'alter ego in questo senso delle applicazioni sui telefoni, insomma, della Apple, c'è la possibilità di giocare a briscola. È un po' sulla falsa rega del solitario, il famoso solitario di Windows, sul quale buona parte degli impiegati passano effettivamente il loro tempo. No, sto scherzando, insomma. Però come la vedi questa cosa dell'applicazione briscola? Non ti gasa più di tanto? No, la briscola è un gioco fatto di verità, di confronto, bisogna stare di fronte al proprio compagno, in parte al proprio avversario, cioè la briscola è fatta di bugie, di verità, di finte. Il gioco dei bugiardi, no? Come si dice della briscola, no? Sì, 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 proprio è una rappresentazione teatrale, la partita della briscola. Quindi non è solo la partita in sé, ma anche tutto il contorno. No, perché se la briscola fosse solamente carta e fortuna, è finita lì, invece la briscola è menzogna, è tutto un insieme, è come vivere con una donna, insomma. Soprattutto menzogna. Senti, ma come vi è venuta questa idea? Mi pare di aver capito che nell'organizzazione c'è anche una donna, quindi a proposito di menzogna. Siamo tre soci, Chiara Mattelicchio, che è proprio la presidentessa, tra l'altro, dell'associazione, poi c'è Ivan Blarasin, che è il mio socio, il nostro socio, diciamo, che cura la parte estetica di tutto l'evento. Sì. Si è venuta in mente perché la briscola si sta un po' perdendo, purtroppo ultimamente i locali puntano molto sui videopoker, puntano molto su un guadagno immediato, a discapito di quello che era una volta lo stare insieme. Ecco, spulciando così sul sito, visto che c'era anche questa logica, diciamo, antitetica, rispetto a quelli che sono i giochi più diffusi di adesso, che giochi non sono, che hanno un po' una componente, diciamolo, oppure anche di tristezza, dell'inserire il gettone dentro una macchina elettronica, non c'è neanche più la soddisfazione della slot che tiri giù, un po' così da film vecchio stile, oppure da film di Sean Connery, di 007. Ormai c'è il tasto che pigi e vai avanti, insomma, e perdi un sacco di soldi e anche un po' di dignità, in questo senso, giocando a questi giochi qua. E quindi c'era questa logica del gioco, diciamo, partecipato, no? Non tanto legato alla vittoria in denaro, che magari ci potrebbe anche essere, ma più che altro alla socialità, no? Sì, infatti, il venerdì abbiamo creato... Non ti girare, altrimenti dopo metti in difficoltà la regia, il venerdì abbiamo creato un nuovo evento che si chiamerà Brisco Bar e infatti potranno partecipare due coppie per ogni bar e parteciperanno a nome del bar. Abbiamo cercato di fare... C'era tipo il torneo dei bar, però a Briscola, non il classico calcetto dei bar. Perfetto, perché così, almeno, speriamo che i bar riprendano questa tradizione. In tanti bar ci hanno detto, due coppie sono troppo poche, io ne rimanderei sei, sette, tanti bar hanno detto io purtroppo... Abbiamo i campionissimi, poi mi immagino anche all'interno dei vari locali, no? Sì, sì, sì. La battaglia per rappresentare il bar al campionato italiano di Briscola. E a dispiacere, invece, alcuni bar hanno detto ma io fino a qualche anno fa lo facevo il torneo oppure giocavano adesso non ho proprio più nessuno da mandare. Ecco che questo Brisco Bar servirà a riportare la Briscola nei bar. Tanto un pacchetto di carte costa 4 franchi. Un bicchiere di vino... Tu ragioni ancora in franco, come i marinai francesi. Un bicchiere di vino si beve volentieri insieme quindi non penso che porti via né del tempo né possa creare un investimento a perdere, insomma. Ben venga che tornino le carte in tutti i bar. Senti, parlavamo di premi prima non sono così poco consistenti però, no? Ci sono abbastanza sostanziosi. Mi ricordo l'edizione precedente addirittura un'auto forse. Due automobili. Due automobili. grazie a un ottimo contributo della concessione del punto auto siamo riusciti a regalare due Fiat Panda. Per questa edizione invece avendo avuto tra virgolette delle lamentere dove quelli che non hanno vinto la Panda hanno detto eh, ma... A noi cos'è rimasto in mano? Quest'anno abbiamo deciso di fare per i primi otto classificati otto vacanze partendo da una crociera all inclusive perché esistono le crociere dove ti danno la crociera poi devi pagarti tutto ma in questo caso una crociera all inclusive con costa crociere quindi abbiamo anche un marchio piuttosto importante offerto da Magia di Viaggio di Alessandra Zornetta a scendere fino all'ottavo classificato che è una notte in una città d'arte quindi avevamo delle settimane bianche avevamo delle settimane... Ok, quindi una... Quando parlavi prima di migliorire mi pare di aver capito che c'era anche questa logica qua un po' essere un po' più ecumenici accontentare un po' tutti anche perché le prime otto su quante sono gli iscritti fino a questo momento? In questo momento abbiamo raggiunto quasi le 600 iscrizioni per il campionato italiano per il Brisco Bar abbiamo bei numeri bei numeri belli consistenti e aspettiamo poi tra l'altro ecco parentesi il venerdì sera presenterà Driussi che presenta l'Osteria Friulane appunto per creare proprio questo clima un legame sì Bar-Osteria sentici si può scrivere ancora adesso nel momento fino a domenica in cui qualcuno vede da casa e dice anche io voglio cimentarmi in questo campionato italiano sono forte ho il mio il mio compagno il mio compagno insomma ci intendiamo sappiamo tutti i moti a memoria fino a domenica e come si fa per iscriversi Claudio? si raggiunge il palazzetto in via del Maglio nella zona Paderno come no? si entra si beve un bicchiere di vino si mangia un pezzo di fricco e si fa una partita a carte è semplice la nostra è una gara fatta molto diciamo rurale non è queste pre-iscrizioni questo quando altro vieni vedi se ti piace gioca ok invece se qualcuno fosse un po' più diciamo 2.0 se non 3.0 2.0 può farlo anche sul web sul vostro sito c'è il sito internet www.campionatoitalianobriscola c'è la pagina anche la mail quindi info chioccio campionato italiano briscola dove ci può redazionare è simpatica invece la pagina Facebook si chiama Cib quindi campionato italiano di briscola dove comunque anche noi mettiamo le barzellette le vignette tante cose tutto un po' per creare questo clima di giovialità insomma senti ci vogliamo lasciare con un augurio cosa ti aspetti che succeda a parte che partecipi un sacco di gente che si trovino bene tutti che si divertano e che la briscola possa veramente ripeto sarò pedante ma che la briscola torni ad essere un must nei locali priulani e non solo avete capito insomma con questo appello per la rivalutazione della briscola gioco nobile che ha diciamo dato un sacco di aneddoti anche agli stessi cronisti insomma io ringrazio Claudio Colella per essere stato con noi è stato molto gentile ha un sacco di impegni in questo periodo come potrete immaginare però è stato contento di essere qui con noi e di partecipare a Viceversa e Viceversa domani va in onda con la sua versione blob di quello che è successo durante la settimana e lunedì invece riprende con la programmazione abituale vi anticipo subito che martedì commenteremo i risultati delle elezioni statunitensi del ballottaggio chiamiamolo così fra Donald Trump e Hillary Clinton avremo qui con noi in trasmissione Simone Bressan che è un attento osservatore delle dinamiche americane ce l'abbiamo qua è friulano lo sfruttiamo è contento di venire quindi preparatevi per una puntata davvero a stelle e strisce grazie e buonasera a tutti appuntamento alla prossima settimana con Viceversa e buonanotte e buonanotte a tutti e buonanotte e buonanotte e buonanotte e buonanotte e buonanotte